Intanto pensa a tutto quello che devi fare, bovola guardi dietro, pensa alla famiglia, pensa alla famiglia, pensa che c'è quello veramente bravo che ti guarda, che è lui veramente bravo, veramente bravo così non esiste, è finito lo stampo, ok, se no tira nel centro così spatti la freccia a lui mi sta bene, no io vado a spaccare nulla, ma tanto è scusato, dici no ha sbagliato, è diventato un nuovo sport di spaccare la freccia a me, spostati di scendere verso me, vabbè te lo porti, poi il concetto è semplice, basta non imparare a guarda Andrea, basta mandare la freccia nel centro, non sai come metterlo, devi trovarti in una posizione da poter fermare la testa, scusa ma perché invece di prenderla laggiù in fondo e non la prendi qui davanti, no vieni avanti, vieni avanti, vieni avanti, vieni avanti, vieni avanti, vieni avanti, è maliglia, così, fa niente di sicurità, per quello di tutti, fanni vedere Actingle lì, odio avanti, vieni avanti, hai capito che voglio dire, Giuseppe ora vedi questo qui la nocca? te la pianti lì e ti ci deve venire male a sonde tirare qui sotto che c'hai scusa? c'ho, eh esatto, lo senti? hai un punto, ok, perfetto no, vedo la scelta no, vedo Celi, lo vedo qui sei, allora, attenzione ora la sicura le libera, allora mi raccomando quando sganci di tenerla su, non avrai paura sta tranquilla che tanto al limite si ammazza velo bravo, non ti muove lì, tieni i denti chiusi, fai la persona sessa e tutta storia, rimettiti a modo, ora leva di fu, stai lì brava, su non è, basta tutto, non è, non è linda